Bella a tutti ragazzi e benvenuti nell'ottantunesimo episodio della nostra serie sulla Master League Swiss Pro Evolution Soccer 2, signori con l'Inter Allora, noi veniamo da uno scorso video in cui non mi ricordo assolutamente cosa cazzo loro è successo, andiamolo a vedere subito Abbiamo pareggiato con il Marsiglia, ah vero? Sul rigore, vero? Il pareggio sul Marsiglia E adesso andiamo a giocare con il Dortmund, signori, sono le ultime partite di questo campionato Siamo attualmente terzi a pari punti con il Chelsea, con due punti di vantaggio sulla Fiorentina ma tre punti di svantaggio sul Dortmund Signori, che dire? Abbiamo una situazione particolare E' una situazione particolare in cui dobbiamo cercare di vincere tutte quante le partite se vogliamo continuare a sperare nella promozione Grazie! 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 No, voglio una sola punta davanti Che cozzo errore di schema è questo? No Troppo, troppo Ma una sola punta davanti si può avere? Cinque dietro, un mediano Proviamo questo signore, mi ispira questo modulo Questo modulo mi ispira un botto Andiamo a mettere gli attaccanti belli, larghi così MS, MD Così, perfetto Mettiamo il trequartista, no, più avanti così non può andare E va bene signori, sì, facciamo una prova, facciamo una prova signori Perché ho in testa una cosa particolare Castello lo mettiamo punta centrale Posto di bolata, Ronaldo ha voglia di giocare, sì, Ronaldo ha voglia di giocare signori Ronaldo lo mettiamo dietro la punta a trequartista signori Ronaldo lo mettiamo lì Miranda da quel lato, Babangita di qua Che non c'ha voglia di giocare, quando mai c'ha voglia di giocare Babangita Ehm, no, sulla fascia mettiamo, mettiamo, mettiamo Boucher Che cazzo è la centra Boucher? Ho sbagliato, ho sbagliato, mettiamo Espimas Mettiamo Espimas Ehm, sì, ne abbiamo cinque dietro Sei sicuro di voler fare questa cosa terribile? Sì, mettiamo Forlanda in centrale Valeri lo mettiamo sul centro-sinistra E partiamo così signori Non lo so, mi sono inventato un qualcosa di diverso per dare brio diverso a questa squadra Un Ronaldo non attaccante ma trequartista Può funzionare Se giochiamo come abbiamo giocato a inizio stagione con le triangolazioni Secondo me sì signori Perché se giochiamo troppo Perché se no diventa normalmente una serie Un inter Babangita dipendente E questa cosa non va assolutamente bene Noi ci interessa l'aiuto del Bamba Però Di Babangita Però, porca Di una paletta ambriaca Questi sono partiti col turbo, signori Bravo Castello che ci voleva dargli la giusta Questi sono partiti col turbo, signori Cazzarola Eh, perché hanno paura, signori Hanno paura Hanno paura Hanno paura e quindi sono partiti fortissimi E questo a noi va bene E questo a noi va bene, signori E questo a noi va bene Perché noi mangiamo subito Babangita Sulla fascia velocissimo Sulla fascia velocissima E quando andiamo in calcio d'angolo Va bene Va bene Va bene Va bene Chi la batte? E Spimas Per Babangita Che riesce a liberarsi Babangita Babangita Vedi Ronny Che si gira Mannaggia Altro calcio d'angolo Bello Il Ronny lì mi piace, signori Il Ronny lì mi piace Se riusciamo però a fargli arrivare Sempre il pallone Bello così No Mannaggia 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 No Che cazzarola fai A chi? A chi? A Babangita A Babangita di nuovo Oh, buello Babangita Questo è Matt Matt Attenzione 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 Guardalo 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 Dove aprile sulla fascia Ma porca miseria Siamo lenti Lentissimi Siamo stati Nel liberarci di questo pallone Porca di una paletta Ambriaca Tienilo Tienilo che lo sapevo Lo sapevo Preciso Hanno preso palo Hanno preso palo Hanno preso palo Hanno preso palo Lancia il bamba Lancia il bamba Che partiamo da un'azione Offensiva Difensiva Una azione Offensiva Guarda come l'abbiamo Trasformata Guarda come l'abbiamo Trasformata Tira La bamba Ma cosa cazzarola era Ma cosa cazzarola era Dovei tirare in porno Ma perché Babangita C'ha i piedi storti Signori Cosa gli è successo Cosa gli è successo Babangita C'ha i piedi storti Cosa gli è successo Cosa Ma non è vero Non era mai fallo Nella vita Comunque forse Prima sul calcio d'angolo Non ha tirato Ronaldo Ma ha tirato Matt Purtroppo i due Sono entrambi pelati Quindi un attimino E un attimo E un attimo Non riconoscerli Però evitiamo Di fargli fare questi tiri Dalla Dal limite dell'aria Signori Ve lo chiedo per cortesia Calma Calma Apri Bravissimo Guardalo tu Bravissimo Babangita Riesce a partire Vai bamba Vai bamba Vai bamba Vai bamba Calcio d'angolo Va bene Va bene Va bene Va bene Dobbiamo riconoscere Il colorito della pelle Signori E mi sta No E Matt E Matt E Matt Quello lì E Matt E decisamente Matt Porca miseria Comunque Babangita Ha fatto un'altra cagata Di tiro Impressionante Uh 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 Vai Ronnie Vai Ronnie Ronnie ancora Non ha strusciato Un pallone Perché stiamo Continuando ad andare Sulle fasce Mamma mia Stiamo Continuando ad andare Sulle fasce Quindi Ronny Giustamente Palloni Non ne vede Nemmeno Da lontano Asperdiamo Sto pallone Mangia Vai Babangita Mannaggia Oh Mannaggia Questi mi lasciano Le praterie Non riesco a approfittarne Questi mi lasciano Le praterie Non riesco a approfittarne Grande Guarda Guarda Ronny Guarda Ronny Guarda Ronny Che chiede L'1-2 Con Castolo Ma porca miseria Aveva funzionato Però signori Aveva funzionato Aveva funzionato L'idea tattica Aveva funzionato L'idea tattica Aveva funzionato L'idea tattica Aveva funzionato Però Ronny mio Devi tenerlo Il pallone Anche Devi anche Riuscire a tenerlo Il pallone Ronny mio Che cos'è Che cos'è Porca miseria Che buco Terribile Ronaldo 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 Sulla tre quarti Ronaldo Vede Valery Che vede Babangita Che però Non può partire Che però Vede Il compagno Di squadra Ma il pallone Non arriva Perché ci stai andando Tu che sei Il mio difensore centrale Però vabbè Ronaldo 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 Non riesce Di testa No vabbè No 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 Via 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 Non lo so signori Stiamo soffrendo Come una cosa Impressionante Io capisco Che il Dortmund È primo in campionato Però cazzarò Attenzione È partito Ronaldo Signore È partito Ronaldo Me lo buttano a terra Niente Non mi devono far giocare Un pallone Con Ronaldo Signore Ma chi Ma chi Che quello Se n'era andato Ma chi Ma porca Miseria Infame Ma porca No meno male Stiamo soffrendo Come una cosa Impressionante Signore No Buttala sotto Perché tu Mi fai il passettino Lì Che è una via di me Nessuno la prende Grandissima Questa palla Per Ronaldo Grandissimo Attenzione Ricerca Ronaldo Ritalla Ronaldo 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 Vuole l'1-2 Facci 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 Ronny Ronny Stai così Stai così Stai così Stai così L'abbraccio Tutto brasiliano Fra Ronny E Castolo Una triangolazione Cercata ma fortuita Ronaldo Finalmente Trova il primo gol Con la maglia Con la maglia nera azzurra Al quarantesimo Tanto pressing Loro Siamo riusciti a trovare Il gol del vantaggio Porca miseria Vediamo se ci devono pareggiare Guarda 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 Valeri 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 No Dovevi cercare Ronaldo Dovevi cercare Ronaldo Mannaggia A te Dovevi cercare Ronaldo Perfetto Buono Ronny Parti Ronny Parti Ronny Parti Ronny Parti Ronny Parti Ronny Parti Ronny Non lo tieni Non lo tieni 1-2 Ronaldo 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 Ci ha preso gusto Signori Ci ha preso gusto Funziona Allora Quest'idea tattica Potrebbe funzionare Signori Potrebbe funzionare L'idea tattica L'idea tattica Potrebbe funzionare Certo Se lì ci mettiamo Uno un poco meglio Rispetto a A A Castolo Annaggia Merda C'hanno tutta la La squadra schierata Però Ok Formazione Andiamo a gestire Un attimino La formazione Perché dobbiamo Invertire i giocatori Ovvero Bavangita Mi deve passare Da questa parte Ronaldo Lo teniamo sempre lì E si riparte Vediamo che fanno Le altre squadre Allo fine Nel primo tempo L'Ajax Batte 2-0 La Fiorentina Ok Il West Ham Batte 1-0 Il Chelsea Signori Sarebbe Troppo importante Vincere questa partita Oggi Qui lo dico E qui lo confermo Sarebbe troppo Importante Vincere questa partita Quindi Diamoci tutti Una svegliata E portiamoci A casa Rimessa laterale Ronaldo Ronaldo Ronny Mio Mannaggia 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 Ho fatto chiudere troppo No 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 Buono Con calma Con calma Con calma No Anticima Bravissimo Ronny 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 Cerca il Bamba Che riesce a partire lui Parte Babangita Parte Babangita Signori Parte Babangita Si è creato lo spazio Si è creato lo spazio Babangita Babangita Rientra Babangita Babangita Non lo so Gli la volevi Proprio Attenzione Ronaldo Mannaggia Non mi è riuscito Il movimento Con Ronny Non mi è riuscito Il movimento Con Ronny Calma 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 Meno male Fuori 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 Un Claudio Lopez Messa a posto Di Castello Secondo me Ci può dare Un attimo Quello Piglia Mamma mia Come l'ha presa Valery Come l'ha presa Valery Come l'ha presa Ivanov Cosa Misera Signori Infarto Viene a far venire Viene a far venire L'infarto Questi Babangita Dai corri Corri Babangita Sono trascorsi 15 minuti Dall'inizio Di presa Ma chi Ronny Ma porca Di una paletta Ambriaca Ronny mio Ma chi L'ha passata Mannaggia Niente E poi Tata Tuta Tante belle parole E poi però Facciamo Ste Grandi cagate Vai Babangita Vai Parti Babangita Che ha cambiato Fascia Babangita Si è spostato Sull'altra fascia Si è spostato Sull'altra fascia Babangita Babangita Si è spostato Sull'altra fascia Rimessa la terra Nostra Va bene Si è fatto Si è fatto Tutto il campo Babangita Va bene Per Giorga Per Giorga Per Giorga Che cerca Ronny Che riesce a girarsi Ma porca Tienilo 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 Valeri Tienilo Valeri Ti avevo detto Valeri Mio Ti avevo detto Tienilo Porca miseria Porca miseria Porca miseria Che cazzarola di gol ci siamo fatti fare Signori Che cazzarola di gol ci siamo fatti Dai Ai ai Dai prendere un gol così Porca miseria Dai uno che lo va a chiudere Ma vaffanbagno Cazzarola non riusciamo Abbiamo le pratire con il bamba E non riusciamo a sfruttarle Porca miseria però dai Due passaggi di fila Due passaggi in croce Ci riusciamo a farli Due passaggi in croce Due passaggi in croce Non chiedo tanto Due passaggi in croce No 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 Bravo papangita che la tiene in campo E' partito il bamba E' partito il bamba E' partito il bamba Dove cazzarola vai Bamba mio però Dove cazzarola vai C'ho Ronaldo e non lo sfrutto 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 C'ho Ronaldo Grande Ronaldo E' partito il ronni E' partito il ronni signori E' partito il ronni Che chiede una triangolazione Una triangolazione avviene Ronni 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 Ronnie scatenato, signori Ronnie scatenato, ma Sfortunati, sfortunati, sfortunati Sfortunati, sfortunati Vai bamba, vai bamba Guarda, guarda, guarda quanto tempo Mi ha perso per... No, ci portiamo La palla pure fuori, non ci posso credere Non ci posso credere Ma porca, ma porca Guarda Ronnie, guarda Ronnie Vai Ronnie, vai Ronnie, vai Ronnie, vai Ronnie Sei il nostro nuovo fenomeno, Ronnie, no, è Ronnie mio Sì, vabbè, dai Perdiamo altro tempo Perdiamo altro tempo inutile, porca miseria Infame Ma stiamo scherzando, ma che cos'era? Non ci posso credere Non ci posso credere Sì, vabbè, dai, va bene Sì, perfetto Va bene, va bene, va bene Quarantaduesimo Ma porca miseria infameo Ma porca miseria infameo Vai bamba, vai bamba È partito bamba, signori È partito... Dai, non ci credo Rupo la palla Nooo Palla alta E niente, signori Uno a uno Pareggio Ennesimo pareggio inutile Tra Inter e Dortmund Niente da fare Non siamo riusciti a approfittare degli spazi che ci hanno lasciato immensi per Babangita Questi stanno... Stiamo continuando a giocare Non capisco perché ora io ripartirò E lui fischierà la fine della partita Ora, ecco, lo sapevo preciso Uno a uno Risultato un poco inutile Vediamo che hanno fatto le nostre dirette avversarie Manteniamo il distacco dal Dortmund 10-8 Allora, allora L'Ajax ha battuto la Fiorentina a 2-0 E West Ham ha battuto il Chelsea 2-1 Risultati importantissimi per noi, signori Pareggiamo contro il Borussia Dortmund Primo gol di Ronaldo Con la maglia dell'Inter E va bene così, va bene così Se non sbaglio in classifica dovremmo essere... Abbiamo preso due punticini Siamo a 32 Ok, siamo secondi, signori Siamo a secondi Con un punticino di vantaggio sul Chelsea Con il quale ancora abbiamo lo sconto diretto E tre punti di vantaggio sulla Fiorentina Con il quale anche con loro abbiamo lo sconto diretto Non abbiamo più lo sconto diretto col Dortmund Che rimane sopra di noi di tre punti Però va bene così, signori Va bene così Primo gol di Ronaldo Che va sistemato lo schema Però funziona, funziona Detto questo, signori Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i giudenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale E per un prossimo appuntamento raga Bella raga Ciao